Buongiorno a tutti, sono sempre di Trasuntotto Allora, voglio ricordarvi che da pochissimo si sono aperte sul sito della Limited Edition Books le prevendite per il mio libro che si chiama L'Inferno di Victor lo ripeto per chi non lo sapesse, è una sorta di parodia dell'inferno dantesco ma è un inferno cinematografico dove a espiare le proprie colpe sono coloro che hanno peccato contro la settima arte, quindi ci sono anche i personaggi, i registi, i sceneggiatori, i attori eccetera che hanno contribuito a creare film più brutti di sempre Il libro uscirà ufficialmente il 17 marzo in tutte le librerie e fumetterie d'Italia e costerà 14,90 euro e lo troverete anche in tutti gli store online quindi Amazon, LaFeltinani.it, TBS.it, Mondadori Store eccetera però a partire da oggi potete preordinarlo sul sito della Casa di Dece che lo pubblica che troverete il linkato in descrizione qui sotto, è la Limited Edition Books, ripeto e per il preordine sono state riservate 300 copie con la cover regular quindi quella che troverete poi una volta che uscirò ufficialmente dappertutto e 300 con la cover, la copertina Variant che è stata disegnata per l'occasione da Bob Ampesov ed è qualcosa di fenomenale, è veramente una cover assurda e sono 300 copie numerate a mano, solo che la Variant la troverete solo ed esclusivamente sul sito e non cambia il prezzo, è sempre il 14,90 euro, il punto è che se finiscono le copie del preordine con la cover regular poi le troverete in giro il 17 marzo dappertutto per ora invece sono state stampate solo 300 copie, quelle che trovate nel preordine della cover Variant quindi se la volete affrettatevi a prenderla adesso e potete scegliere quando preordinate il libro se pagarlo o ritirarlo al Mantua Comics allo stand della Limited Edition Books oppure se non potete venire al Mantua Comics potete scegliere di farlo spedire a casa e le spedizioni partiranno una volta che la fiera sarà finita quindi dopo il 6 marzo le spedizioni partiranno e potrete ricevere il libro per preordinare il libro basta andare nella sezione acquista del sito e troverete tutte le informazioni su come fare io ne approfitto ancora una volta per ringraziarvi perché questa occasione è qualcosa di meraviglioso non credevo che sarebbe mai arrivata e la posso cogliere solo e esclusivamente grazie a voi e al vostro supporto che mi avete dimostrato in tutti questi anni quindi grazie, vi abbraccio quindi il sito trovate in descrizione se volete poter vedere il libro potete farlo e sappiate che con il libro vi romperò i coglioni per parecchio tempo perché voglio che tutti quelli che mi seguono sappiano che ho scritto il libro nel momento che molti ancora quando lo scrivono un posto o dedicano un video cadono da perro e non sapevano niente quindi ci tengo a che tutti lo sappiano per cui questo è quanto io vi ringrazio vi ricordo che sarò ospite per presentare il libro il 4, il 5 e il 6 marzo al Mantova Comics poi farò un video specifico per questo per ricordarlo per cui ancora ci sarà modo di parlarne comunque sulle schede in questo video trovate il video dove ne parlo in maniera più specifica, approfondita che è uscito l'altro giorno quindi questo è quanto sperato troppo noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti